ciao a tutti e bentornati su indie gameplay ita non è questa la voce della commozione per la news eccezionale che sto per darvi sono semplicemente molto raffreddato e quindi i video della settimana prossimo potrebbero un pochino slittare ma qualcosina dovrei avere già pronto quindi pazientate insomma anche per le live la news di oggi è davvero molto molto ricca perché mountain blade banner lord si aggiorna la 1.7.0 non fatevi ingannare dalla pagina steam perché la principale novità e poi lo andremo a vedere è che hanno aggiunto l'italiano e tra poco vedremo anche degli delle schermate di gioco quindi se avevate la scusa dell'inglese ora non l'avete più e se volete giocarlo dovete giocare questo bellissimo strategico ma non solo perché a parte aggiungere l'italiano in altre sette lingue sono state riviste e aggiunte delle importanti funzioni tra cui il batter terra in system che è in grado di fornire ai giocatori un migliore controllo delle scene che si decide di combattere nel senso che tiene conto dei punti di dove vi trovate con le truppe rispetto a quella nemica insomma crea delle scene di inizio battaglia in realtà questo c'era già ma vi hanno aggiunte 23 nuove quindi avete un totale di 72 scene iniziali di combattimento ciò significa che siete su un crinale e sta attaccate quelli sotto il gioco ne tiene conto vi fa partire più in alto un'altra cosa molto importante sempre relativa a questo è l'order of battle cioè praticamente una panoramica del campo di battaglia che avrete prima di iniziare il combattimento vi consenterà di assegnare gli eroi e le truppe insomma le varie formazioni e dare gli ordini c'è un battle morale system che è stato aggiornato quindi il morale delle truppe è diventato molto importante salita su scale torri d'assedio è stata rivisitata e l'efficacia degli assedi basate sulla crescente fame l'hanno aumentata insomma migliorata prima magari gli assedi non erano il top adesso lo sono hanno rivisto totalmente l'abilità di fascino nel sistema dei personaggi rivisitato e gran parte dei vantaggi che avevate sono stati sostituiti da nuovo ovviamente hanno fatto delle modifiche alla qualità della vita bug insomma resti anomali insomma e vale vari un sacco di fix insomma e quindi direi che è il caso che magari se il gioco vi ispirava è giunto il momento di acquistarlo insomma perché qua ci potrete perdere le ore spero abbiate gradito questa news anche se con questa voce improponibile io vi rimando al prossimo video gameplay e alla prossima ciao ciao